salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco ci siamo oggi ufficializzo l'apertura della mia gilda e lo faccio tramite video non lo faccio in live perché sennò dovrei aspettare praticamente stasera mentre invece magari c'è gente che vuole già entrare in gilda vuole iniziare a fare magari qualche mission in cina vuole iniziare un pochettino a fare tutto ciò che è presente all'interno della gilda quindi cominciamo a creare la nostra gilda si puoi creare la tua gilda usare cristalli oppure unirti ad una gilda che ovviamente abbia le tue le due caratteristiche il tuo playstyle noi ovviamente la andiamo a creare ovviamente sì abbiamo già il nome perché lo abbiamo scelto su discord e ci sta preciso preciso come come nome e questo sarà ovviamente il nome della nostra gilda genovas ar peccato va bene la chiameremo genovas ar non è un problema abbiamo il primo login bonus già subito nel momento in cui siamo appunto entrati in gilda quindi adesso abbiamo i bonus che sono stati sbloccati e qui abbiamo la bellissima introduzione generale qui ci sono le missioni che permetteranno di ottenere alla gilda l'esperienza e il bonus point poi invece avremo la possibilità di controllare i nostri bonus point ottenuti tramite i vari membri della gilda questo è il tasso exchange per scambiare ovviamente le medal le medaglie di gilda con gli oggetti presenti all'interno dello shop questi invece sono gli annunci molto comodi dove praticamente avrò modo di poter gestire sia io che i vice i messaggi per annunciarli a tutti quanti la gilda e poi qui c'è il menu di gilda in generale dove appunto potremmo vedere le varie diciamo le varie cose della gilda il guild master e i suoi sottoposti potranno cambiare il nome della gilda l'emblema il wallpaper e anche le condizioni di ricerca quindi per farci trovare in modo più facile mentre invece questi sono i bonus che ovviamente saranno erogati in modo automatico a tutti i membri della gilda il guild master e i suoi sottoposti potranno utilizzare i bonus il yield bonus point per sbloccare e potenziare i vari bonus ma questi ovviamente gli commenteremo e ne parleremo ovviamente insieme si può utilizzare la chat ovviamente per parlare con gli altri membri della gilda e anche ricevere inviti per le coop quindi molto molto bello e poi invece in questa parte dello schermo si potrà guardare e si potrà controllare tutti quelli che sono stati i messaggi cioè si potranno guardare tutti i messaggi della gilda però non si potranno mandare messaggi direttamente da qui o ricevere inviti per la coppa si potranno fare soltanto dal tasto in alto a destra quindi come potete vedere adesso io sono il guild master da qui possiamo guardare ovviamente il nostro id di gilda che sarà quello che ovviamente io darò ovviamente sul mio discord e che mi permetterà ovviamente poi di reclutare la gente perché appunto metto l'approvazione manuale mi sembra abbastanza logico i membri saranno soltanto 30 all'inizio ma vi ricordo che i membri della gilda aumenteranno man mano che l'esperienza della gilda aumenterà quindi se avete pazienza potete aspettare un po oppure magari ritornare più in là ovviamente aperti a tutti questo va bene però ovviamente le approvazioni saranno manuali il messaggio ovviamente adesso lo andiamo a modificare a non lo posso modificare da qua forse lo posso modificare dal menu sotto e qui ovviamente ci sono praticamente tutte le varie tutte le varie diciamo richieste o comunque tutte le varie diciamo tutti vari obblighi tra virgolette per entrare all'interno della gilda qui abbiamo tutti i punteggi tutti gli score questi sono ovviamente i bonus che abbiamo a disposizione per il momento abbiamo soltanto questo dove abbiamo praticamente la durata ridotta delle spedizioni dello 0,2 per cento quindi veramente nulla e questo invece è il codice della gilda che andrò a copiare e andrò a postare già subito su discord in modo tale che tutti possano iniziare già a mandare le richieste ok ho modificato già un paio di codice all'interno della gilda in modo tale che ho mandato ovviamente le richieste ho mandato anzi il codice già su discord ovviamente le approvazioni saranno manuali quindi sarò io a decidere chi entrerà perché ovviamente c'è stato già un metodo di prenotazione in generale però andiamo a vedere un attimo tutte le robe quindi missioni come potete vedere ci sono ovviamente diverse missioni che si potranno fare giornalmente almeno per il momento che sono anche abbastanza semplici in realtà e credo che queste siano forse individuali perché comunque consumare 50 stamina 20 stamina cioè molto molto easy poi qui abbiamo l'exchange shop che come potete vedere abbiamo già tutte le armi a disposizione e anche il voucher per prendere le memorie dei personaggi quindi molto 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 buono qui invece ci sono gli update che ovviamente potrò che potrò aggiornare e potrò scrivere e ovviamente io stesso per poterli fare leggere a tutti che anzi in questo caso mettiamo così no aspetta ecco facciamo un piccolo messaggio un piccolo messaggio iniziale qua ci saranno poi ovviamente i like i cuori eccetera 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 e qui invece abbiamo il menu generale dove potete vedere abbiamo praticamente già il nome da modificare che ho cambiato in genova a m che sta per appunto a significare armi il simbolo il wallpaper che per il momento non possiamo cambiare e poi qui abbiamo praticamente tutti i vari achievement che si potranno sbloccare e che ci consentiranno di ottenere wallpaper stemmi e tutto quello che ovviamente ci interesserà successivamente all'interno all'interno del gioco ho già delle richieste ma ovviamente poi le richieste le accetterò dopo ovviamente non le faccio vedere a video qui abbiamo a vabbè questo è lo stesso menu e qui abbiamo appunto la chat dove praticamente possiamo scrivere come potete vedere possiamo scrivere possiamo fare tutto quello che vogliamo e qui poi si leggeranno tutti i vari messaggi della gilda qui invece abbiamo il tasto per poter tornare indietro e come potete vedere siamo praticamente di nuovo all'interno del gioco quindi la gilda è ufficialmente creata e ovviamente tutti quelli che si sono prenotati avranno modo di potersi inserire e avranno modo piano piano di poter entrare all'interno della gilda quindi questo era la presentazione generale che è durata pochino ma ovviamente ci sta è giusto così è giusto un video per annunciare l'apertura ufficiale della gilda e ovviamente permettere a chi magari vuole entrare con qualche posto vacante avere la possibilità di entrare detto ciò adesso parleremo del banner di vincent detto ciò ovviamente io vi aspetto con il prossimo video e ci becchiamo alla prossima bye bye